Lo scorso anno furono sette gli abusi edilizi scoperti dalla polizia municipale di Polignano, tutti al confine con la frazione di Cozze, in una zona in cui negli anni una rebificata rete di costruzioni ha interessato un tratto di costa tra i più suggestivi. I vigili urbani guidati dalla dottoressa Maria Centrone, misure di sigilli a tettoie non autorizzate, vani sorti dal nulla e persino nuove costruzioni che sarebbero sorte senza i preventivi permessi. Gli immobili in questione, tutti a meno di 300 metri dal mare, appartengono a cittadini di Conversano, alcuni di loro difesi dall'avvocato Francesco Iudice. Il dispositivo del GIP Group di Bari emesso ieri, decreto penale di condanna, è solo un primo passo, ci vorrà ancora del tempo prima che si passi all'effettiva demolizione. Infatti ogni singolo proprietario potrà fare opposizione e aggiudicare dei tempi della giustizia, oltre che a migliaia di fascicoli, tutti sullo stesso tema, non si saprà più nulla prima di anni. Ma anche Monopoli non se la passa bene, gli investigatori è qui che avrebbero riscontrato il maggior numero di reati. A coordinare le indagini i pubblici ministeri Baldo Pisani e Renato Bonitti.